Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un nuovo video sul siero per far crescere le ciglia. Ci servirà un cucchiaino di olio di ricino e un cucchiaio di olio di cocco. Se non l'avete potete anche benissimo utilizzare dell'olio extravergine di oliva. Andate a mescolare. Ovviamente ancora un po' in uno stato burroso, ma non serve più il microonde. Perché in realtà è molto soffice. Poi cosa vado a fare? Vado a prendere uno scopolino e lo vado a prendere e lo vado a passare sulle mie ciglia. E quindi nulla, io spero di esserti stata utile. Iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato e lasciami un commentino qui sotto. Metti un like se il video ti è piaciuto. Io ti mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!